In questo momento è una riunione straordinaria volta a trattare un tema importante, ovvero la creazione e la realizzazione di una nuova strada che agevoli il traffico canicattinese. Di quale strada stiamo parlando? Sì, è la via San Giovanni Bosco, in pratica è un'arteria che collega via Callalberto con la parte finale di via Vittorio Emanuele. Ed è una specie di circonvallazione che permette al traffico canicattinese, ma anche al traffico che proviene da paesi vicinori tipo Delia, Sommatino, Campobello, Ravanusa, di raggiungere via Vittorio Emanuele in maniera molto agevole. Soprattutto il mercoledì, quando c'è il mercatino settimanale, la strada parallela via Callalberto è intasata e non si riesce ad arrivare al ponte di ferro. Quindi per noi dell'Associazione Tutti Insieme per la Croce, Cristiana e la Cicattinese, ha una duplice funzione questa strada di collegare la parte finale del paese con via Vittorio Emanuele, ma anche per collegare la nuova chiesa che verrà inaugurata il giorno 14 dicembre del Redentore con la grande croce di Gesù Redentore che si trova sulla Serra Puleri. Quindi ci permetterà di fare svolgere questa via Crucis in maniera agevole a tutti i cittadini e quindi sarà una via importante per tutta la città e anche per chi viene da fuori. Vogliamo dire chi sta presiedendo questa riunione e chi sono gli addetti ai lavori che stanno anche partecipando? Sì, ci sono i consiglieri dell'Associazione Tutti Insieme per la Croce, Cristiana e la Cicattinese, compreso appunto il sottoscritto che è il presidente, e poi ci sono alcuni cittadini del quartiere Redentore che stanno chiedendo al sindaco che sta appunto presidendo questa riunione la possibilità di alcune opere collaterali tipo un'illuminazione che permette appunto di avere questo percorso diciamo più agevole. Quindi ci stanno spiegando il progetto, un progetto che è stato fortemente voluto dal sindaco ma anche dal consiglio comunale precedente che l'ha passato tra le opere primarie e grazie alle fonti di compensazione dell'ANAS siamo riusciti con un piccolo finanziamento appunto ad avere questa importante arterie che agevola un po' tutti. Presidente, in questo momento anche si sta parlando di nuove proposte, di nuovi progetti, se sì quali? Sì, abbiamo realizzato questa croce dopo 113 anni, è una croce alta 10 metri che sovrasta un po' tutta Canicattì, è una croce che ci dovrebbe anche proteggere ed è diventata anche punto di riferimento anche per le persone che vengono da fuori. Sovente troviamo persone che si fanno questa passeggiata, vanno a visitare questa croce, nella parte più alta di Canicattì, si riesce a vedere mezza isola, è un posto molto bello, soprattutto è un posto di preghiera, è un posto di meditazione e di pelliclinaggio, quindi noi stiamo cercando come associazione di mettere a posto tutta una serie diciamo di opere collaterali, piccole opere collaterali che permettono ai cittadini di Canicattì e di fuori di rendere agevole questo percorso. Siamo ancora all'inizio, l'opera l'abbiamo realizzata, però abbiamo bisogno di tutti, l'associazione è aperta a tutte e quindi chiunque, so che ci sono molte critiche ma anche critiche costruttive e quindi siamo ben lieti di accettare queste critiche e suggerimenti per migliorare l'opera. Come tutti abbiamo visto, siamo illuminati dalla croce, una croce bellissima che ci protegge, protegge tutti noi di Canicattì ma anche quelle del circondario. E allora che cosa vogliamo chiedere noi come associazione, perché non abbiamo introiti particolari, quindi noi ci tassiamo spesso, vogliamo chiedere un aiuto a tutti i canicattinesi per fare che cosa? Per realizzare una via crucis, una via crucis come esiste a Mesjugorje, da Padre Pio, sarebbe una bellissima cosa. Io dico aiutateci perché lo vogliamo fare.